Il Consiglio regionale, come è stato fatto già in precedenza in questa emergenza, in questo ultimo anno di emergenza Covid, collabora pienamente con la Giunta e con tutte le strutture ospedaliere, con proprio la struttura degli stati generali della prevenzione e della salute per il vaccino, che sarà in procinto di essere sviluppato nella fase 2 e nelle successive fasi. Anche il Consiglio regionale svilupperà e tratterà in modo molto ampio tutte le modalità e le disponibilità che può dare la struttura regionale a tutti i cittadini piemontesi per velocizzare il più possibile questa vaccinazione di massa.